SIGLA Riceviamo supporto dal generale Grievous in persona Nel villaggio in superficie è nascosta un'ingente quantità di scorte mediche della Repubblica. Dopo averle acquisite e distrutte, abbatteremo la nave da battaglia dei cloni. I Felucian sono già stati evacuati. Completate gli obiettivi programmati e occupate tutte le posizioni, poi abbatteremo la nave di Liga. State lontani! Sì! 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 Udo una granata La Repubblica sta assumendo il controllo del volto di comando Nord Granata lanciata Possiamo parlare La Repubblica sta catturando il posto di comando Aure Granata lanciata Tu in che unità Il Conte Duco è qui La Repubblica sta catturando il posto di comando Aure Granata lanciata Granata lanciata Jonas è unito ai croni La Repubblica sta assumendo il controllo del posto di comando ESC Le nostre porti hanno aperto il controllo del posto di comando S La Repubblica sta catturando il posto di comando Aure La Repubblica è stata riuscita a farlo La Repubblica è stata riuscita a farlo Non c'è un po' la Repubblica è stata riuscita a farlo Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Sei senza speranza. Grazie. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie a tutti. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Repubblica ha iniziato a catturare il posto di comando Aurek. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.